Paolo Andreucci, portacolori della scuderia M33 Skygate, sarà al via del rally di Roma Capitale al volante della Renault Clio Rally 3 del Team Autosport Italia gommata MRF Tires. A dettare le note ci sarà come di consueto Rudy Briani. Ucci ha accolto con grande piacere l'invito di MRF di correre al rally di Roma Capitale sulla nuova vettura di Renault. Del resto il campione Garfagnino conosce la gara a capitoline ed inoltre ciò costituirà un momento importante per lo sviluppo delle gomme, oltre che per conoscere la nuova Clio Rally 3. Da tempo Ucci sta portando avanti lo sviluppo delle gomme, sia su terra che asfalto, e gareggiare a Roma gli permetterà di acquisire numerose informazioni. In occasione di questo importante evento saranno effettuati dei test pre-gara per arrivare quanto più possibile preparati alla corsa, soprattutto per comprendere al meglio il comportamento delle gomme sulle lunghissime rocca di cave Subiaco e Santo Padre, rispettivamente di 32 e 29 km. Le PS laziali saranno dunque una prova infuocata anche per Lucchesi Junior, che ritroverà al suo fianco Chiara Lombardi, e sarà interessante per il giovane pilota di Bani di Lucca leggere riscontri cronometrici confrontandoli con i protagonisti del campionato europeo. A dare ancora più valore alla competizione in ottica campionato, vi è il fatto del coefficiente maggiorato di 1,5 rispetto al punteggio. La gara, organizzata da Max Rendin, è un palcoscenico molto importante, con grande visibilità oltre al fatto che permetterà agli equipaggi lucchesi di poter gareggiare nei luoghi più affascinanti della capitale. Attraversare ed effettuare la prima prova venerdì sera con vista sul Colosseo, davanti a milioni di turisti, sarà un'importante vetrina e un formidabile veicolo di promozione per tutto il movimento realistico. La corsa proseguirà poi nel Fusinate, con due giornate dall'alto tasso adrenalinico, sabato 29 e domenica 30 luglio, con altre 12 prove speciali, tra le quali la nuova Latri e le due lunghissime, già ricordate, Rocca di Cave su Biaco e Santo Padre. Arrivo a Fiuggi, domenica alle 18.